Buongiorno a tutti e ben ritrovati alla consueta rubrica Caffè Mercati, un saluto da Riccardo Zago, investire.biz Andiamo in velocità a scorrere il calendario economico, quante cose che ho da dire quest'oggi su questa rubrica, non so se riuscirò a dirle tutte ma nel frattempo partiamo da dei dati assolutamente da commentare, eccoci qui giovedì 6 settembre 2018 Mi concentro subito sull'America ore 14.15, variazione dell'occupazione non agricola, il dato sull'ADP che a volte può essere un dato premonitore per quanto riguarda i non farm payroll che ovviamente saranno pubblicati nella giornata di domani e quindi è previsto un dato 188.000 la vedremo se il dato sarà in linea con le aspettative o addirittura migliore poi cosa abbiamo? Indice ISM non manifatturiero e le scorte di petrolio greggio alle ore 17 un dato che ci interessa molto perché siamo esposti sia sul petrolio che sul dollaro canadese ora però andiamo avanti con i grafici perché come detto ho molte cose da farvi vedere innanzitutto parliamo di GBP CAD, allora guardate, è vero, ieri stavamo soffrendo su questo strumento che cosa è successo però? Il prezzo non ha chiuso al di sopra del livello di 1.7 come avevo detto e quindi non ho chiuso la mia posizione devo dire che sì, qui ci ha fatto sudare un po' perché comunque nel pomeriggio ieri la sterlina si è apprezzata veramente molto e quindi ero quasi sicuro che avrei preso lo stop loss questo non è successo perché poi guardate il prezzo è ritornato indietro e ha chiuso proprio a 1.7 diciamo che ha chiuso 7 pips sopra e quindi non la considero una rottura anche per la conformazione grafica che è andata a crearsi ovviamente però ho alleggerito un po' l'esposizione e quindi adesso sono rimasto con un 40% in posizione ma lo stop loss quindi non è scattato andiamo avanti e parliamo di uno strumento dove stiamo facendo molto bene questo è stata un'operazione fatta grazie all'indicatore Ichimoku vado a impostarlo in due secondi eccolo qui, avevamo impostato uno short dalla zona di 1.1 siamo entrati benissimo il prezzo ha anche testato la chius e poi c'è stato un brusco storno e il prezzo è addirittura non solo toccato la trenale ma è addirittura arrivato alla linea superiore della Kumo, alla SSA che cosa faccio quindi ora? stop in pareggio lievemente in profitto e porto a casa il 40% della posizione devo dire che abbiamo fatto un ottimo trade andiamo avanti e parliamo di Audi USD niente da aggiungere, interessante solamente la settimana la chiusura settimanale attenzione perché voglio capire come chiuderà se chiuderà in questo modo andrò a chiudere definitivamente la mia posizione quindi con candele di indecisione barra inversione ma vi aggiornerò parliamo di DAX invece, piccolo stop preso qui eravamo entrati a 12.100 il prezzo, il DAX invece ieri ha chiuso a andiamolo a vedere la chiusura ha chiuso a 12.050 e quindi ho chiuso la mia posizione una cinquantina di punti di stop 50-70 sul DAX non sono sicuramente un problema e devo dire che me l'aspettavo ma comunque un long lo volevo provare ora magari molti mi dicono bene possiamo provare uno short sì, si può provare uno short da 12.120 ma molta attenzione perché la volatilità a mio avviso sarà alta nel prossimo periodo stop loss alla chiusura di prezzi di sopra i 12.230 ovviamente attenzione al money management andiamo avanti e parliamo di Integia San Paolo avevo impostato uno short in area 2.39 eccolo qui 2.39 non è stato colpito perché il prezzo ha raggiunto la zona di 2.38 un vero peccato a mio avviso però tornerà su questo livello e io shorterò questo titolo ma questa è un'operazione di trading invece le posizioni che vedete aperte qui sono più per un investimento andiamo avanti e parliamo di crude siamo tornati in profitto molto bene ci è voluto un po' ora però io voglio raggiungere come minimo la zona di 67.30 prima di 67.30 67.50 prima di portare a casa parte della posizione e magari spostare lo stop in pareggio concludiamo il tutto con Euro CHF che continua a mantenersi nella zona vicino a 1.12.50 stop in profitto 1.13.30 niente da aggiungere ma continua ad essere in posizione abbiamo concluso io vi invito però quest'oggi a trading alla sessione di trading con Inchimoku dalle ore 16 alle ore 17 e insomma state vedendo che stiamo facendo delle operazioni veramente molto interessanti con degli ottimi profitti le faccio vedere un po' tutte non tutte ma comunque faccio poi vedere tutti gli aggiornamenti quindi io vi aspetto perché sta andando molto bene dalle ore 16 alle ore 17 per qualsiasi info non esitate a scrivere una mail a info-investire.biz buona giornata e buon trading a tutti grazie a tutti grazie a tutti